Se sei alla ricerca di un depuratore d'acqua con il miglior rapporto qualità prezzo continua a seguire il video. Il filtro d'acqua X4 riduce il cloro a altri sapori sgradevoli così puoi goderti un'acqua pura e gustosa. Il filtro ha una capacità di filtrazione di 100 litri per far scorrere l'acqua ad una velocità di 2 litri al minuto. Ha due modalità che puoi scegliere premendo un pulsante. L'acqua filtrata in modalità getto è perfetta per bere e cucinare mentre l'acqua non filtrata in modalità doccia è perfetta per i piatti e le attività di pulizia. Il filtro può essere facilmente sostituito con un nuovo filtro quando è necessario e il timer indica quando il filtro deve essere sostituito.